si è girato fermato ma poi è ripartito pistando sotto l'ima questi dicono che sono lì che cantano sono quelle qua sulla destra che cantano se andava via nell'erba la trovava si è ancora raffreddato? no, sono quasi guardato sulla ce n'è una che ho fatto volare io con la mela ma è sulla sinistra secondo me dovrebbero rimetterle giù perché secondo me quelle che c'erano se ne sono andate mi hanno girato già in tre quel pezzo lì dai giù, porca puttana, allora c'è la zanetta eh si adesso è alzata un pelino non gli fa né richiami povero ma come vado? bravino eh, 5 mesi e mezzo c'è comunque cerca se voglio vedere se vengono qua se vengono la stanna si infatti beh però sai, 15 euro non ti mettono giù neanche la stanna ogni turno non ti mettono giù non ti mettono giù non ti mettono giù con questo adesso hai incontrato quello lì? eh ma sembra che tocchi eh però è fermo eh è fermo il chiodato eh che è venuta su quella eccola là no c'è giù l'emanazione lì e basta cazzo fa lo picchia ah no che non si sia alzata la sterna che era te l'ha lì l'aveva trovata eh però non volava dai però che cazzo animale ma come sono dormono giù bene o io ne ho trovati due volanti no perché ho visto che non ho volato figa ha fatto prendere il cucciolo dio bono per prenderla il cucciolo era morta non era ma quella che ti ha messo giù a te eh ma sei venuta su a piedi da giù lì sotto lì dove l'ha messa è arrivata fino lì per immaginarti te lì 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 lì